L'avvocato Ciccio Rizzo si candida a sindaco di Lipari. Il fondatore del movimento Vento Eoliano, ex consigliere comunale di Messina con alleanza nazionale non scelto dal PDL che ha preferito puntare su Gianfranco Grasso, si propone in maniera politicamente indipendente alla guida del comune delle isole Eolie, formalizzando così una spaccatura interna al centrodestra che stava maturando ormai da mesi. Rizzo, ex rappresentante di AN, ha fatto parte del PDL e del comune Eoliano è stato anche difensore civico. Il suo ex partito non ha voluto prendere in considerazione l'ipotesi delle elezioni primarie e così Rizzo ha scelto di correre da solo per la consultazione del 6 e 7 maggio. La sua campagna elettorale sarà accompagnata dalla proposta di fare di tutto l'arcipelago delle isole Eolie e la capitale europea della gioventù per l'anno 2015, evento che farebbe piovere ingenti finanziamenti sulle isole che potrebbero così essere riqualificate. E Lipari diventa intanto territorio di sperimentazioni politiche ed alleanze. L'Udc, con Futura e Libertà, puntano congiuntamente sul nome di Marco Giorgiani. Il PDL rimane in assi con il Movimento per l'Autonomia. L'isola diventa un importante banco di prova per i partiti, mentre i riflettori rimangono costantemente accesi anche su altri importanti comuni che andranno alle urne Barcellona e Santa Teresa.